Ecco l'entrata in campo, partita secca, se finisce in parità si va direttamente ai rigori, ci troviamo a Monteprandone, provincia di Ascoli Piceno, i nostri ragazzi con la classica divisa giallo-rossa e la squadra della Bita Ardese, provincia di Salò, con giallo-verde, ma portano le casacche perché c'è il giallo preminente in entrambe le maglie. C'è lo scambio della porta e del pallone, l'arbitro è della sezione di San Benedetto del Trondo, ecco si salutano le due squadre qua, i saluti, vai a salutare l'arbitro? Ecco le rispettive panchine, si scambiano i saluti, due tempi da 25 minuti, gara 6-0, secca, in bocca al lupo, gara secca proprio, in bocca al lupo, crepi il lupo.